Dissequestrate le torce della Basel, dopo nove mesi di sigilli fatti porre dalla Procura della Repubblica. Dissequestrate dunque le due candele della multinazionale americana. Era il 26 ottobre 2010 quando furono apposti i sigilli anche alle cinque candele della Polimere Europa, con l'accusa di essere utilizzate come termodistruttori, senza alcuna autorizzazione. La Procura aveva concesso nove mesi di tempo per riportare gli impianti in regola, aggiungendo nuovi dispositivi, data di scadenza degli adempimenti a cui ottemperare per entrambe le società il 15 luglio 2011 e ieri gli adeguamenti sono stati portati a termine dalla Basel, accorgimenti che sono fatti il dissequestro. La Basel aveva già ottenuto l'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale e quindi ha modificato i suoi impianti riportandoli a norma di legge grazie ad una autorizzazione integrativa. La fideiussione di 6 milioni di euro depositata a cauzione, così come aveva disposto la Procura, è stata svincolata. La Procura però ha chiesto l'installazione di misuratori delle emissioni sioni e torcia. Per questo motivo ha concesso un'ulteriore proroga che scadrà ad ottobre 2011. Diversa invece la questione per la Polimere Europa, azienda con impianti più grandi rispetto alla Basel e con 5 torce da rimettere a norma, che richiedono procedure più laboriose. Polimere Europa, tra l'altro, non ha ancora ottenuto l'AIA e la Procura ha accolto la richiesta di ulteriori 10 mesi di proroga. Le indagini della Digo Stibrindisi sulle ripetute accensioni delle torce del petrolchimico, come si ricorderà, erano state avviate dopo l'estate e l'autunno del 2009. Dopo aver monitorato a lungo la frequenza delle accensioni, si appurò che quasi sempre non avevano un collegamento con situazioni di emergenza, ma venivano impiegate per bruciare senza autorizzazione i rifiuti delle lavorazioni.